Ragazzi, qui è il vostro Baina che vi parla, ma non dalla sua cameretta, bensì dalle alte montagne in cui mi trovo. In realtà non sono alte montagne, sono scappato per fare col mio vecchio una escursione di quasi tre ore, ci ho messo due ore e quaranta, sul Monte Baldo, che è sul lago di Garda, che è qua giù, e abbiamo raggiunto la cima a Costa Bella, una escursione che conosco praticamente a memoria dal tanto che l'ho fatto, sono un millino di metri di dislivello, ma è sempre bello tornare qui. Ma perché siamo qui? Perché oggi ho un po' di tempo libero e volevo registrare un paio di video, anche perché poi devo accompagnare il babbo in un posto e quindi non sarò in postazione live prima di stasera, dove ci vediamo e sicuramente vi aspetto. Allora, sono sudato, quindi, perdonatemi, ma sono un disastro, veramente un disastro. Allora, c'è un bellissimo falco che vola lì, no, è una cornacchia dal verso che fa, però è strano perché non sta battendo le ali, però ok. Allora, ed è molto grosso, non so se lo vedete, è lì, lì, eccolo, è un corvaccio, è un corvo grosso in realtà, eccolo lì, eccolo lì, dico, allora credo che dopo questa bannet list ci siano un paio di investimenti da fare. E sono degli investimenti barra acquisti che vanno bene sia dal punto di vista del gioco, sia dal punto di vista proprio della mera economia. Perché potreste risparmiare qualche soldo su delle carte che spaicano e allo stesso tempo vi consiglio di acquistare alcune carte perché se dovete giocare, soprattutto se andate a fare dei tornei cartacei, credo che saranno fondamentali in questo periodo fino a dicembre dove ci sarà la prossima bannet list. Allora, i primi investimenti che ovviamente consiglio sono di acquistare le carte per energy, anche se costano tanto, perché se giocate, e soprattutto se giocate modern in questo momento storico, dopo questo bann credo che sia fondamentale possederle, ok. Quindi Ajani, Ocelot, Guide of Souls, sono tutte carte che credo che un modernista ora come ora debba avere. Per quanto poi potrebbero prendersi un bann, ma ragazzi è troppo presto adesso per dirlo, e comunque fino a dicembre avete, se non c'è una bannet d'emergenza su queste carte, sicuramente tre mesi per giocarle, quindi attualmente non avete motivo di non ritenerle un investimento per quanto riguarda il gioco, sicuramente, sicuramente sicuro. Poi, altre carte che sicuramente dovete acquistare sono le carte di Fenici, perché Fenici sicuramente in Pioneer si riproverà. E siccome una di queste carte è di Murder at Karlof Manor, ora scusatemi ve la metto in grafica, non mi ricordo il nome, ma è molto molto forte, quella ve la consiglio in modo particolare perché secondo me, insieme alle Josh Redder, saranno un pochino le carte che faranno di Pioneer un pochino le staple, ok. Poi, sicuramente Grisfang, anche Grisfang tornerà, costa un cazzo Grisfang, tra l'altro, quindi comprate Grisfang e Parelion in 4x, tranquilli, si sa mai che torni ad essere un mazzo giocabile. Lotus Field, sicuro. Dopo Lotus Field, credo che in Fenici, vabbè, c'è tutto anche il Nip to Light, che potrebbe essere un mazzo ottimo. Ma, per quanto invece riguarda gli investimenti che vi voglio consigliare, non tanto solo per il gioco, ma anche perché potrebbero salire, sono le classi, scusate, di Blomburro. Le classi di Blomburro, insieme a Bezza, fanno di questo standard qualcosa di particolare e sono molto molto giocate attualmente. Su Arena le giocano in tantissimi. Magari non saranno l'investimento economico, ma se volete quantomeno giocare in standard, credo che Cartaker Talent e in Keeper Talent siano fondamentali. Bezza anche per resistere un pochino agli aggro. Dopodiché, di Blomburro sicuramente dovete andare a comprare i topi, tutti, sia quello che dà Double Strike, che piace tanto al Delmo, sia il drop a due prowess rapido, che tra l'altro si sta giochicchiando anche in Pioneer, quindi secondo me anche quella è un'ottima carta da acquistare in questo momento. Così come credo che sia un'ottima carta da acquistare in questo momento storico, la Season Bianca, la Season Bianca di Blomburro in particolare, sta a pochi euro, finché sta così bassa io la comprerei in questo momento. Dopodiché, se Domain non viene toccato e rimane così anche con Dusk Morn, prendete il 4 per delle comuni che si stanno giocando lì e andate via lisci, quelle proprio non costano niente. Però prima che diventino introvabili io ve le consiglio vivamente di acquistarle. Poi penserei a Necrodominance, perché è vero che Mono Nero perde Griff, ma se si vuole giocare Mono Nero adesso, Necrodominance in Modern, credo sia fondamentale. E poi altre carte su cui andrei ad investire in questo momento, quantomeno spenderei un minimo di economia per, diciamo così, credere nel loro utilizzo e nella loro presenza nei vari meta, credo che siano l'Avrasca, l'Avrasca sicuramente, non sta altissima di prezzo, quindi l'Avrasca dovete comprarla, e le Forge. Le Eurabrasque Forge senza dubbio, perché Borostoken è un bel mazzo e si sta facendo sentire su Arena, quindi sicuramente le Eurabrasque Forge vanno acquistate, ragazzi. O quantomeno io le acquisterei se dovessi andare a giocare standard in questo momento, che tra l'altro, ripeto, è il formato più bello di tutti. Tra l'altro, ragazzi, oggi credo che in macchina, mentre accompagno il babbo, farò un altro video che parla del fattore divertimento che ha citato Wizard of the Coast, lo sapete, l'ho già detto, a me piace, mi piace come abbiano ragionato attorno ai ban e attorno a questo fattore divertimento per quanto riguarda il Modern, anche se a molti non è piaciuto come discorso, ma oggi lo giustifico ancora come l'ho giustificato ieri. Un altro acquisto che vi consiglio, sempre ti blomburro e lo scartino a due mana, l'ho già visto giocato anche in Pioneer, è forte, ragazzi, è forte e penso che potrà essere giocata ancora di side, quindi sì, vi direi di comprare sicuramente anche quella carta lì. E poi, poi, poi fatemi pensare se mi manca qualcosa, sicuramente mi sarò dimenticato qualcosa. Ah, beh, il topolino non comune, di blomburro, sì, 100% sì. Tutte le carte che plottano di Monored, in particolare quella che è da minacciare se va nel cimitero pesca, anche quella secondo me resterà un pochino staple fin quando Monored è legale. Ehm, basta, credo che siano questi i consigli che vi volevo dare, qui sui monti. Beh, per chi non li ha i Fable Passage, ma credo che i Fable Passage non siano neanche più... Ah no, c'è un altro. Prendete la Counterspell non comune, che è Gift a carta, sempre di blomburro, perché anche quella, secondo me, in alcuni mazzi da Explorer, la vedremo, da Explorer barra Pioneer. Io la comprerei non comune, è un investimento proprio sicuro, sicuro, al massimo avete speso pochi centesimi. Bene, cominciano ad arrivare altri escursionisti in vetta, quindi vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Non so dove farò uscire questi video, penso sul canale principale, e l'altro invece credo su Baina Extra. Vediamo, io intanto mi continuo a godere la montagna, ragazzi, ci vediamo stasera in live. Aspetta, 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 prima di terminare questo video, siamo in macchina, faccio la chiusura qui, perché mi sono dimenticato due carte che sicuramente devono essere acquistate se volete giocare quantomeno standard ora, e che sicuramente non sono soldi buttati. Una è Sunfall, Sunfall rimane bassissima di prezzo, ragazzi, compratela, finché esiste si giocherà, anche se arriva Day of Judgment. E poi, dopo Sunfall, che è forte, tanto, tanto, tanto forte, credo che un altro ottimo consiglio da darvi in questo momento storico del gioco sia di comprare le Liliane. Perché anche in Monoblack le Liliane adesso sono tanto, tanto buone, migliori rispetto al meta di prima, e ci farei sicuramente un pensierino. Ci farei sicuramente un pensierino, anche perché secondo me potete giocarle anche in Pioneer, se per caso Monoblack si conferma fortino anche lì, dopo questo ban. Ma non credo, non credo che Monoblack farà tornare a parlare di sé, ma intanto avete le Liliane, non costano tanto rispetto a quello che era il prezzo originale di Liliana del Velo. Compratelo. Così come potete anche provare ad acquistare adesso pochi euro il Teferi, e per quanto riguarda i Planeswalker, ma forse finché sono legali in standard, io comprerei anche le Nisse, e soprattutto l'artefattino nuovo di Blomburro che ti dà mana e lavora sui tribali. Queste erano le carte che mi erano sicuramente dimenticate prima, me ne sarò dimenticate altre, ma ne approfitterò per fare un video ulteriore, magari anche in camera senza essere in giro. Ciao ragazzi!